Oggi parliamo di aree interne e di circolazione nelle aree interne della nostra regione. Due strade importanti che collegano le province di Pescara e L'Aquila, la ex strada statale 487 e la SP54 che sono chiuse ormai da diverso tempo e che creano enormi disagi ai residenti. Sì, sicuramente, insomma, sono due strade che creano un grosso disagio. Cosa è successo? Il 22 di aprile c'è un morto a Barrea, cade un motociclista, muore, la provincia prende atto soprattutto perché la procura di Sulmona apre un'inchiesta al che il dirigente Francesco Bonanni, l'ingegnere Francesco Bonanni della provincia dell'Aquila, ritiene di chiudere 29 strade. Fra queste 29 strade vi è la SP54, la fonte romana, e la 487, che è quel tratto che raggiunge la provincia di Pescara, quindi in realtà stiamo parlando che stiamo chiudendo due province. Siamo alle porte dell'estate, noi viviamo di turismo perché Caramanico Terme, Sante Ofemia, Pacentro, Campo di Giove e quant'altro, Roccaraso, perché proprio collega la Valle dell'Orta con l'atto sangro, si vede chiuso. Questo chiaramente comporta delle grosse preoccupazioni. Noi abbiamo partecipato il 2 di maggio alla riunione di tutti i sindaci promossa dall'amministrazione provinciale dell'Aquila, dal presidente dottor Angelo Caruso. Eravamo presenti, abbiamo presentato un dossier rispetto a quelle che possono essere le soluzioni. Ieri c'è stato un comunicato stampa da parte della provincia dicendo che si è trovato una misura straordinaria di circa 500 mila euro per interventi urgenti. Noi aspettiamo, prima di scendere in piazza, vogliamo aspettare ancora 15 giorni, i tempi che ci sono stati promessi, però sicuramente non seppelliamo l'ascia di guerra.